Diventerete una forza politica? Beh, una forza politica di questo dipenderà anche dalle forze politiche attuali. Se sapranno raccogliere il nostro appello a ritornare alla serietà, a ridare dignità alla politica, c'è caso che questo non avvenga. Noi arriveremo sicuramente, come abbiamo già dichiarato, con 4-5 punti riconoscibili alle forze politiche esistenti per chiedere che questa politica fatta di bugie, di finzione, abbia fine. Quindi la nostra battaglia è innanzitutto culturale, per riportare a un dialogo civile e democratico, ribadire i valori della Costituzione, i valori fondanti di questa Repubblica. Questo è il nostro primo obiettivo. In più c'è una battaglia enorme sull'informazione che ha travalicato i confini nazionali, perché sono state le piazze, ci saranno delle sardine da New York a San Francisco, a Capitale Europea, Madrid, Edimburgo, non solo le città italiane, l'isola delba, l'isola Maddalena. Perché io credo che il tema delle fake news, il tema dei contenuti politici non verificati, di una politica che è fatta di social, ma è fatta di social controllati da chi è più ricco e da chi è più potente, sia tocchi tutti, tocchi veramente tutti e tocchi il nostro futuro soprattutto. Quindi la battaglia è da condurre adesso. Grazie, grazie il sardone, spunta fuori la Costituzione. Praticamente ho spiegato a mia figlia di 12 anni perché oggi dovevamo essere qui in piazza e allora abbiamo fatto insieme questo cartellone. Roberto Ugolini, 43 anni, operatore socio-sanitario di Civitanova, a cosa si dice no? Proviamo a iniziare a risvegliare le coscienze su dei punti cardine, come il no al razzismo per esempio, cavallo di battaglia degli ultimi anni. Giorgio Mattiuzzo che è l'amministratore, cosa significa portare le persone in piazza anche nelle marche? La gente stava semplicemente dentro casa. Penso che il bello di questo movimento è che la gente fisicamente scende in piazza. Ed ora siamo con Elisabetta Colantonio, perché partire dai giovani come voi per coinvolgere una piazza che è abbastanza eterogenea dai bambini fino ai più grandi? Perché fondamentalmente saremo, penso noi, il futuro del paese e quindi è più che giusto che noi per primi scendiamo in piazza.